segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e con tutto il rispetto ci sono dei uomini che magari non sanno nemmeno penetrare almeno sesso anale non hanno mai praticato allora magari non lo sanno nemmeno come fare ci sono uomini di 50 60 anni che non hanno mai praticato sesso anali non ho capito una cosa perché guarda me 50 perché quelli da 40 non ho capito cioè da lei dice nonostante siano anziani come lei è come lei si presume esperti arrivano non sanno nulla è un po scioccante vedere questi signori che hanno una certa età che non hanno mai praticato in tutta la loro vita sesso anale perché le moglie non fanno allora uomini frequentano il mondo di prostitute soprattutto per poter praticare tutte le porcherie che non riescono a fare con la moglie con lo compagno ed è cambiato nel tempo perché oggi rispetto a quel filmato adesso ci sono altre internet no magari c'è tutto un approccio diverso che avevano soltanto sesso anale adesso vogliono che fai pipì addosso fai fisting che non entri nemmeno nei dettagli e con tutto il rispetto io non pratico queste cose io sono abbastanza tradizionalista le perversioni sono aumentate quindi aumentato il livello di perversione mi sta dicendo ma anche i giovani ma anche molto giovani da 18 anni in su ci sono in effetti io quando quando a me mi capita un ragazzo molto giovane dico cazzarola c'hai 23 24 anni stai già facendo l'amore con la trans quando arrivi a 40 50 cosa cazzo farai cioè è credo che per ogni cosa c'è un'età io capisco che prima o poi vorrebbe comunque fare un'esperienza con una transessuale per carità però 22 23 24 anni quindi lei ha notato che una media che crede di tutto di più eccetera